Artigiani under 35 in difficoltà. In un anno si è perso il 5,6% di imprese artigiane giovanili in Liguria. La denuncia arriva da Confartigianato che chiede un maggior sostegno per i giovani. In Liguria si contano 4.914 imprese artigiani giovanili, l'11% dell'artigianato totale della regione. La maggior parte dei giovani artigiani Liguri lavorano nelle costruzioni, seguono i servizi alle persone e alle imprese. Tutti i settori risultano in calo, ma il più pesante è proprio nelle costruzioni, con un meno 8,1%. A Genova si concentra la stragrande maggioranza di imprese artigiani giovanili nella regione. Al secondo posto troviamo Savona, seguita da Imperia e La Spezia. Imperia con 898 micro e piccole imprese artigiane under 35 registra un trend complessivamente in calo del 4,1% con qualche spiraglio di luce. Nelle costruzioni sono attive 589 realtà, meno 8,8%, seguite dai servizi alle persone 153 in aumento del 15,9% con 21 unità in più. Nel servizio alle imprese 80 realtà, il meno 10,1%, mentre nel manufatturiero, altro settore in crescita nell'ultimo anno, più 13,8%, sono attive 74 imprese.